Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Su una centralina elettrica in via Barbieri qua Voghera è comparsa una svastica nanzista. Antonia Tabottini, rifondazione comunista, ha chiesto che il comune elimini subito le sracce. Secondo te è giusto che venga eliminato il prima possibile oppure non dà così tanto fastidio? No, secondo me dà particolarmente fastidio soprattutto nel momento che abbiamo appena passato la giornata della memoria quindi dà particolarmente fastidio e è giusto che venga tolta immediatamente. Aspetta farlo al comune o ad ASM? Aspetta farlo ad ASM secondo me, sì perché comunque è una sua centralina e dovrebbe attivarsi immediatamente per toglierla. Si dice anche che si potrebbe trovare una finalità educativa in tutto ciò. Bluttini propone addirittura di coinvolgere le scuole, i ragazzi, gli studenti, i genitori e andare là tutti insieme per cancellarla. Secondo te è effettivamente una buona idea oppure no? No, non ne vedo sinceramente il motivo. Devo semplicemente eliminarla perché comunque è un brutto segno come può essere qualsiasi altra parolaccia scritta da qualsiasi altra parte. Secondo me va eliminata. Come mai? Dopo quello che è successo negli anni, diciamo, venire di tutti quelli che parlano dei fascisti, secondo me va eliminata. Anche tra l'altro è una giornata in cui si è parlato molto di quel periodo, no? Quella giornata della memoria. Sì, è vero, l'ho visto in televisione che ricordano, alcuni addirittura dicevano che non era vero che c'era stato, come si chiama adesso? L'olocausto. Bravo, non mi viene la parola, però secondo me va eliminata. Altro che se mi infatti dici, è urgentissimo togliere la Senna Svastica. Come mai? Come mai? È il giorno delle memorie, l'altro ieri, il 27 di gennaio era il giorno delle memorie, quindi vogliamo ritornare a fare dei ricordi su quello che hanno fatto. Togliamo tutti questi simboli, togliamo qualsiasi cosa che incita a violenze e a razzismi e varie decennate, basta. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.